Allora, il mio obiettivo era quello di migliorare il mio stato di salute generale. Prima del vostro piano io purtroppo avevo diverse problematiche di salute. Non riuscivo a digerire bene, non riuscivo ad assimilare bene tutti gli alimenti. Avevo sempre forte stanchezza e vari sintomi dovuti anche alla tiroide a scimodo. Prima di meetup io sono stata da diversi dottori, quindi nutrizionisti, biologi, endocrinologi, anche altri medici specializzati per le mie problematiche. Il non trovare una soluzione mi faceva sentire chiusa in un vortice vizioso, perché anche se avevo capito qual era la causa dei miei problemi, io comunque non riuscivo a trovare un miglioramento. Ho scelto la meetup perché mi era stata consigliata da una nutrizionista. Lei mi ha parlato di voi, del modo in cui lavorate e poi grazie a Suomi siamo entrate nel dettaglio. Prima di acquistare i vostri prodotti non avevo alcun dubbio per quanto riguarda l'integrazione. Ovviamente per il piano proposto avevo la preoccupazione che non mi portasse nessun beneficio. A riguardo ai dubbi che avevo posso dire che invece in pochissimo tempo ho trovato subito un miglioramento generale della mia condizione, sia con un miglioramento dello stato di salute a livello alimentare, ma anche di forze e di energia. I miei successi ad oggi sono che ho sicuramente molta più energia rispetto all'inizio. riesco a mangiare senza avere problemi durante la digestione, non ho più gonfiore addominale, sono regolare a livello intestinale e riesco a capire che assimilo molto meglio tutto ciò che mangio. Sì, certo, raccomanderei agli altri sia il programma che i vostri prodotti perché io mi sono trovata molto bene e so che ad oggi purtroppo ci sono diverse persone che soffrono di queste problematiche. Conosco Loris tramite i video e il collegamento su Facebook, una persona molto rivoluzionaria perché comunque nonostante le varie problematiche a livello alimentare, pochissimi medici parlano ad oggi di problemi intestinali correlati anche a diverse patologie. Grazie a tutti.